L'attesa è stata più lunga del previsto, ma per la Gelbison è arrivata la prima storica vittoria nei professionisti. Dopo averla sfiorata, finalmente i tifosi hanno potuto stappare lo spumanto e brindare a questo risultato. E se la data della promozione in C, molti la tengono ben impressa nella mente, altrettanto si apprestano a fare con il 24 settembre, che segna il primo successo tra i professionisti. È stata una vittoria netta e meritata contro un Taranto che, già in Serie D contro i Cilentani, aveva dovuto incassare qualche colpo a vuoto. E questo primo urrà per i Rosso-Blu è arrivato nel giorno del debutto in panchina del neo-trainer Fabio De Sanzo, subentrato a Gianluca Esposito. Una prova di carattere e correti da far spellare le mani, che ha esaltato i tifosi, ma non del tutto De Sanzo, il quale, pur soddisfatto del successo, ha avuto da ridire sulla conduzione della prima frazione. Ora, con questa vittoria, si può guardare con rinnovato ottimismo al prosieguo della stagione, che per i Cilentani resta sempre non semplice. E al quinto turno si ferma anche la corsa vittoriosa del Crotone, che nel finale viene acciuffato dal Potenza, che invece si conferma abbonate ai pareggi. Ne ha ottenuti ben cinque in altre tante giornate e con cinque reti fatti e anche tante subite. Ed il primo pareggio degli uomini di Lerda ne ha subito approfittato il Catanzaro per agganciare i corregionali in vetta, rifilando un triss al Messina, che resta in fondo con un solo punto. Si avvicina alla coppia di testo un'altra pretendente al ritorno in cadetteria, il Pescara che travolge allo Zaccheria un foggia troppo brutto per essere vero. Boscaglia, pur in bilico, per il momento salva la panchina, come la salva pure Taurino, tecnico dell'Avellino, che non sfigura ma lascia i tre punti a Latina. Appena dietro al podio le due campane, Juve e Stabia, solo un pari senza reti con la Viterbese, e la Turris, travolta invece nel derby con il neopromosso Giuliano. Il Cerignola, prossima avversaria della Gervison, cade a Monopoli. In eccellenza si ferma in San Marzano, solo un pareggio, e resta a punteggio pieno solo l'Ercolanese, mentre ad inseguire ora sono in quattro, oltre agli uomini di Fabiano, anche la Gropoli, che non sbaglia con il Castel San Giorgio, il sempre più sorprendente Faiano, e l'Audax Cervinara. Insomma, si annuncia una bella lotta per il salto in Serie D, in promozione pari per i sapri di sparaggio. Insomma, si annuncia una bella lotta per il salto in Serie D.